Oh ragazzi è un problema, da Zon non si vede bene, sto guardando il Milan col Parma, una partita schifosa, non si vede bene, non vedo i campioni lottare e vincere per lo scudetto, la squadra così forte che mi avevano detto, quella che combattiva da tutte le parti, che era fortissima Oh tanzo non si vede bene, cazzo i milanisti stanno pagando l'abbonamento e non vedono il Milan, non si vede Oh ma avete raccontato che questo era il nuovo Stam, sul gol, dove era sul gol? A centrocampo era andata a farsi una passeggiata Il nuovo Stam, c'era lui, non si vedeva più gol, Lautaro stai attento, Turam, Acchia stai attento, c'è Pavlovich Grazie a tutti Grazie a tutti